Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video targato iPhoneItalia.com Oggi vi mostro in questo nuovo focus dedicato al nuovo Apple Watch come cambiare le watch face, quindi proprio il quadrante, l'aspetto iniziale del vostro Apple Watch Iniziamo subito Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo focus video su Apple Watch Andiamo a vedere come cambiare il quadrante, quindi l'interfaccia di partenza, la watch face se preferite, del vostro Apple Watch Tutto ciò che dovete fare è aprire l'app orologio, quindi se siete ad esempio nella home aprite orologio Quindi tramite force touch premete in modo forte sulla watch face attuale Dopodiché potrete selezionarne una alternativa tra quelle già presenti Oppure se volete, e ne facciamo così perché vi facciamo vedere tutto, potete selezionare una di partenza Vedete qui ce ne sono diverse, ad esempio selezioniamo questa qui, sempre tramite force touch Che a questo modo potremo modificare a livello dei colori, insomma dell'aspetto eccetera Allora vedete ad esempio voglio questa watch face di colore rosso Eccomi qua, sono sul rosso, mi piace così Poi vado nell'altra schermata, voglio scegliere di vedere qui ad esempio la fase lunare Qui voglio vedere il meteo L'attività in questo caso non mi interessa, quindi ad esempio voglio vedere la batteria Piuttosto che qui vediamo ore locali, piuttosto no, vediamo magari la data Ecco qui, abbiamo così creato la nostra nuova watch face e l'abbiamo cambiata Se volete mettere una di quelle personalizzate invece basta selezionarla e eventualmente personalizzarla in seguito Davvero davvero molto molto semplice Io sono Andrea Cervone, vi ringrazio per aver guardato questo nuovo video E noi ci risentiamo alla prossima Ciao a tutti